allora andiamo a concludere l'esperimento giornata di sole caldo quindi le scarpe si sono asciugate qualcuno dice perché una superficie rigida e non terra perché la superficie rigida trattiene l'acqua quindi se noi otteniamo un risultato positivo ovvero la sabbia la polvere c'è ancora sulla superficie rigida ci sarà maggior ragione sulla terra visto che la terra l'acqua la assorbe e quindi la toglie dalla disponibilità delle suole l'acqua non ha praticamente intaccato la polvere vediamo quella girata con la suona verso il basso che ieri era molto molto umida guardate si è asciugata l'acqua e la scarpa è rimasta totalmente sporca questo per farvi avere un'idea migliore lo possiamo paragonare a quando lavate un'auto con l'acqua se non passate lo straccio quando si asciuga l'umido la macchina torna a essere impolverata stesso discorso vale per le scarpe vediamo di nuovo bene il confronto ora con le scarpe di ieri quelle della fotografia originale guardiamo bene avviciniamoci alla luce guardiamo bene la situazione vedete com'è rimasta sono rimaste sporchissime questa è la dimostrazione che se le scarpe fossero state sporche e venivano lasciate lì anche lo stesso 3 agosto nonostante la pioggia avremmo ugualmente dovuto trovarle sporche e invece le troviamo così una situazione molto differente da quella che riscontriamo andiamo a vedere sotto la luce da quella che riscontriamo nelle nostre foto che state vedendo quindi le scarpe avrebbero dovuto essere più sporche di come sono state trovate se il bambino avesse realmente camminato in quei luoghi